E sempre questa mattina nei giardini vaticani Papa Francesco ha consacrato lo stato della città del Vaticano a San Giuseppe e a San Michele Arcangelo ed ha benedetto una statua dedicata a quest'ultimo. Era presente Benedetto XVI che aveva approvato il progetto tempo fa. Papa Francesco e il Papa Emerito si sono abbracciati con affetto e sono rimasti vicini per tutta la cerimonia. Nel lato di consacrazione Papa Francesco ha affidato a San Giuseppe le attese e le finanze della Chiesa e ha pregato l'Arcangelo Michele di vegliare sulla serie apostolica, di difendere la Chiesa da ogni macchinazione che ne minaccia la serenità e di rendere gli uomini vittoriosi contro le tentazioni del potere, della ricchezza, della sensualità. Anche se il diavolo tenta sempre di scalfire il volto dell'Arcangelo e il volto dell'uomo, ha affermato Papa Francesco, Dio è più forte, è sua la vittoria e la sua salvezza è offerta ad ogni uomo. Nel cammino e nelle prove della vita non siamo soli, siamo accompagnati, sostenuti dagli angeli di Dio che offrono per così dire le loro ali per aiutarci a superare tanti pericoli per poter volare alto rispetto a quelle realtà che possono appesantire la nostra vita o trascinarci in basso. Nel consacrare lo Stato-Città del Vaticano a San Michele Arcangelo gli chiediamo, ha detto il Papa, che ci difenda dal maligno e lo getti fuori.